Fontanimo Diva Outlet. Fascino, stile, qualità e prezzo. Fontanimo Diva Outlet produce e vende direttamente al pubblico abiti da donna e da uomo, da giorno e da sera, abiti da cerimonia, giacche e giubbotti in pelle, tutti rigorosamente prodotti in Italia. Eleganza, moda, classe, la grande tradizione italiana del vestire bene. Tutto questo lo troverete nel bellissimo showroom di Fontanimo Diva Outlet a Capraia e Limite, a 5 minuti dall'uscita di Montelupo Fiorentino, Chi ha detto che le cose belle costano? Quello che vedete in questa pubblicità lo produciamo noi e i prezzi ve li facciamo noi. Fontanimo Diva Outlet. Vi aspettiamo!